Ciao, sono Alessandro Guidi, amministratore di Restart Digital. Il mio mestiere consiste nell'aiutare le imprese nei progetti di sviluppo del business cogliendo le occasioni offerte dalla trasformazione digitale. E a proposito di trasformazione digitale, sono qui per presentarti la prima delle tre puntate del nostro corso online sul tema della trasformazione digitale, che rappresenta il primo sforzo della Academy di Restart Digital. A chi abbiamo pensato quando abbiamo costruito questo corso online? Agli imprenditori che si trovano davanti all'arduo compito di guidare le proprie imprese e che sentono l'esigenza di una visione d'insieme per affrontare la trasformazione digitale della propria organizzazione? Ai manager delle aree verticali che acquisendo una visione d'insieme potranno aumentare la consapevolezza del contesto e quindi il senso del proprio sapere specialistico? A chiunque, indipendentemente dal ruolo, aspiri ad aumentare il proprio livello di responsabilità e di partecipazione ai processi di trasformazione? In questo momento di grande rivoluzione si trovano in rete tantissimi corsi di formazione per dominare questa o quella tecnologia, questa o quella piattaforma, Instagram, LinkedIn, Facebook. Dal nostro piccolo osservatorio mi è sembrato che invece fosse scarsamente presente un'offerta che avesse come obiettivo di fornire una mappa, ossia un supporto all'orientamento per tutti coloro che hanno l'onore e l'onere di guidare i processi di trasformazione delle proprie imprese e organizzazioni in genere. Quindi, non un corso dove si imparano degli strumenti, ma una specie di mappa che prova a mettere un po' d'ordine nel complesso viaggio della trasformazione digitale. Secondo la nostra visione, la mappa del viaggio di un'impresa verso la trasformazione digitale presenta tre territori che è indispensabile conoscere per disporre di una visione d'insieme. Un processo così articolato e complesso deve essere necessariamente guidato e per guidare occorre avere chiara la strada da fare. Dobbiamo quindi individuare scopi ed obiettivi chiari. Vi insegneremo quindi le pratiche per mantenersi allenati, osservare continuamente se nel nostro modello di business tutto funziona ancora a dovere e magari se dobbiamo cambiare qualcosa. Non abbiamo risolto la sfida della trasformazione digitale aumentando semplicemente nuova conoscenza. La nostra organizzazione deve diventare un ecosistema che accoglie ed agisce la trasformazione. Un ecosistema che incrementa le relazioni con le persone e che fa diventare le nostre imprese delle vere e proprie community. Questo è lo sforzo organizzativo a cui devono lavorare i gruppi dirigenti delle nostre imprese. Vi racconteremo nel corso come devono evolvere quindi i paradigmi organizzativi per accogliere queste trasformazioni. Non è possibile fare un viaggio sulla trasformazione digitale senza avere una visione panoramica sulle tecnologie principali. Chi ha la responsabilità di inserire le migliori tecnologie per la trasformazione e lo sviluppo del business deve disporre di tale panoramica. La proposta di mercato è davvero ampia. Sono presenti soluzioni di vendori internazionali e nazionali di diversa complessità e budget. Faremo quindi una panoramica anche qui sulle architetture e sulle tecnologie principali per abilitare i processi di trasformazione. Il viaggio è quindi articolato in tre corsi corrispondenti a queste tre aree che abbiamo appena descritto. Ognuno ha una propria autoconsistenza, un inizio ed una fine. La prima puntata è pronta per essere consumata. Può intanto iniziare iscrivendosi anche gratuitamente alla puntata 0 che descrive il contesto e le ragioni che rendono necessaria una mappa. Ti aspetto sulla nostra Academy e, come dire, buon viaggio attraverso i territori della trasformazione digitale. Ciao!